Questa mattina, mercoledì 6 dicembre, una banda composta da tre individui ha fatto una rapina presso la filiale BPM situata in piazza Salgari nel quartiere Calveirate di Milano. Dopo aver preso in ostaggio sette dipendenti, i malviventi sono riusciti a fuggire con un bottino di 160 mila euro in contanti. Secondo le prime indagini, i tre criminali sono entrati in banca attraverso un varco da loro stessi creato nella parete della pizzeria adiacente Dominos Pizza, ormai chiusa da tempo. Le persone presenti durante la rapina sono state immobilizzate con fascette da elettricista. Pur dichiarandosi armati, nessuno ha riportato di aver visto pistole o coltelli. Due dipendenti bancari sono stati liberati temporaneamente per consentire il prelievo del denaro dalle casse. L'atto criminale è avvenuto intorno alle 9.30 ma l'allarme è stato attivato solo dopo le 10 quando la banda era già fuggita. I soccorsi sono stati chiamati dai clienti della banca dopo essersi liberati dalle fascette. Alcuni testimoni hanno descritto i tre uomini come italiani, probabilmente di origine campane o siciliane, anche se i loro volti erano parzialmente coperti. Attualmente gli investigatori stanno conducendo indagini per fare chiarezza sull'incidente e individuare i membri della banda.